Grazie a tutti. Il successore di Davide, che è l'altra grande figura di riferimento dell'Antico Testamento, perché subito dopo Sarone comincia la decadenza del ciclo dei re, dei re di Israele, che si cominciano a sosseguirne uno peggio dell'altro. Poi addirittura il regno del nord di Israele con la distruzione di Samaria da parte dei babilonesi nel 721, se davanti Cristo cessa di esistere. Poi prosegue il regno di Giuda, che poi arriverà per tappe storiche fino a Erode, Erode il grande, Erode antico, passando però attraverso vicissitudini, disastri, la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi, poi il re del regno dei versiani, il ritorno in patria, poi il ciclo degli ellenisti, quindi i successori di Alessandro Magno, quindi tutto il marasma di Antico Epifane, e quindi il ciclo dei macchia, tutta questa serie di cose che cercheremo piano piano di andare un po' a vedere, a scandagliare un po' per quanto possibile nel proseguo. Chiaramente molti di questi episodi scorrono parallelamente, per fare un pochino di cultura, con i libri dei profeti, perché sono i profeti quelli che grandemente poi approfondiranno alcune tematiche. e che svolgeranno il loro ministero nel corso di queste drammatiche, in parte vicissitudini storiche. Oggi dobbiamo cominciare a vedere un attimo la storia di colui che nacque grande e che purtroppo, come vedremo, non terminò al grande la sua carriera. Purtroppo, disgraziatissimamente. Quindi dobbiamo adesso un momentino avviare la condivisione, sperando che funzioni tutto dello schermo. Ok, basta che riporto bene le scrivanie a posto, ok, dovremmo starci. Allora, ecco la condivisione dello schermo, così possiamo studiare un attimo le slide e vedere un pochino la sintesi della storia di Salomone. Salomone possiamo definirlo il re sapiente e soprattutto è passato alla storia, ha fatto due grandi cose. La sapiente di Salomone, famosissima, vedremo il famoso episodio citato anche da Gesù nel Vangelo, della regina di Saba che va a rendere visita a Salomone. E poi lui è stato il costruttore del Tempio di Giosalemme. Il glorioso Tempio di Giosalemme raso però al suolo come castigo dell'infedeltà del popolo di Israele nel 586 da Nabucodonosor, re di Babilonia. Quindi tuttavia il Tempio di Salomone che era una delle sette meraviglie della Terra è andato avanti per circa quattro secoli. Quindi è stato il cuore del culto giudaico, il primo grande Tempio. Ricordiamo la storia di Davide, era Davide che voleva costruire il Tempio ma il Signore gli dice hai sparso troppo sangue, non lo costruisci tu il Tempio, lo costruirà tuo figlio, tuo discendente, appunto re Salomone. La storia di Salomone, chiaramente non leggeremo tutto, siamo agli inizi del primo libro di Edo che ci siamo lasciati la volta scorsa appunto con la morte di Davide. Passi salienti della storia di Salomone, molto molto belli. Uno dei più belli di tutti è Il sogno di Gabaon. Le due prostitute, una storia molto molto pittoresca che manifesta la sapienza di Salomone. La fama, poi il progetto del Tempio, Salomone e il Tempio, Dio prende il possesso del Tempio, il discorso e la preghiera bellissima di Salomone nel Tempio, e poi la famosa visita della regina di Samba. Qui è l'apice della storia di Salomone, poi però arrivano i guai, perché siamo subito dopo l'episodio della regina di Samba, siamo al decimo capitolo del primo libro del re, Salomone rovinato dalle donne. Le rivolte contro Salomone, ad Adrazzone e Giroboamo, Giroboamo che sarebbe poi stato il re d'Israele, un flaggello di Dio, un disastro proprio, e poi la morte di re Salomone. Non so se riusciremo, spero di sì, a esaurire il tutto entro una puntata, vediamo se ce la facciamo questa sera. Andiamo subito con la lettura, perché la maniera migliore per conoscere queste figure è leggeri i brani, e poi qualche piccolo commento, certamente con un taglio, come di consueto, catetico, perché stiamo, diciamo, affrontando queste cateti come sempre per la nostra edificazione. Andiamo subito, cambiamo finestra di condizione, prendiamo la finestra biblica e andiamo a vedere subito il primo e grande brano, che è Primo Re 3, 4, 15, cioè il sogno di Gabaon. Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici perché gli sorgeva all'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì mille olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte, e Dio disse, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E Salomone disse, tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore letto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che si è sul suo trono, come viene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è venuto al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. E Dio gli disse, poiché tu hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ma ti concedo anche quanto non è domandato, cioè ricchezza e glorie come nessun altro fra i tuoi per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie leggi, nelle mie Dio, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò, ecco era stato un sogno, andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrirò caosti, compissi sacrifici di comunione e diedo un banchetto per tutti i suoi serviti. Da un punto di vista esegetico non c'è moltissimo da commentare, questo è un brano però straordinariamente importante, capito, da un punto di vista catechetico e parenetico. Immaginiamo noi, no? Che ti appare in sogno, il vostro Signore ti dice, senti, domandami quello che vuoi e io te lo darò. Cioè qui appare proprio la grandezza d'animo di quest'uomo e le cose veramente importanti, cioè chiede il discernimento, il discernimento, amici cari, andiamo a ripercorrere, no? Il discernimento nel giudicare. In ebraico è havin, havin che è proprio un verbo che significa la comprensione profonda. Qui ci sta il termine, dice, hai chiesto per te, di comprendere, letteralmente, di comprendere profondamente il discernimento nel giudizio. Cioè sono termini quasi sinonimici, ma gustarli proprio nel vederli, cioè, è come Salomone stesse dicendo, guarda, fammi capire bene la profondità delle cose, l'essenza profonda delle cose e a saper separare bene ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è buono e ciò che è accettivo. Bellissima. Nella domanda di Salomone, troviamo i termini, significa distinguere il bene dal male. No? I termini sono le havin, di nuovo lo stesso verbo, le havin, quindi la comprensione profonda, il discernimento, anche questo, perché havin significa to understand, ma anche discern, anche quindi comprendere, tra tov, il buono, e il cattivo. Concedi al tuo servo un cuore lev shima, docile, un cuore docile, sapete, un cuore che ascolti, che ascolti chi? Che ascolti Dio. Concedi al tuo servo un cuore che ascolti Dio, perché la radice del discernimento, migliori miei cari, è ascoltare Dio. Cuore docile, essere docile, quindi vuol dire, docile viene dalla radice di doceudo, che ora significa imparare, un cuore che stia a scuola, che sia capace quindi di ascoltare quello che dice il Signore. Lishpot, ecco, per un cuore docile, per poter giudicare il tuo popolo, anche per poter governare il tuo popolo. Questo termine, Shafat, significa sia giudicare che governare. Bellissimo. Voi sapete che, oltre a governare il prossimo, noi dobbiamo saper governare noi stessi, e senza il discernimento, noi non governiamo bene noi stessi. Salomone ci insegna che la cosa più importante da chiedere a Dio è questo. Sapete che il discernimento è contiguo alla virtù cardinale della prudenza, che San Tommaso d'Aquino la chiamava la regina delle virtù. Perché? Perché senza la prudenza, uno è sbarrito, perché la prudenza è la retta ragione delle cose da farsi. Il discernimento è più grande, perché la prudenza è una virtù che viaggia sul piano operativo pratico, quindi che cosa devo fare? Il discernimento sta ancora a un livello superiore, perché prima di che cosa devo fare è averci le idee chiare sul vero e sul falso, sul bene e sul male. Che è importantissima questa cosa, sia da un punto di vista teorico, di fondo, lo Spirito Santo, del Consiglio e anche della Sapienza, sia da un punto di vista pratico, appunto, la prudenza. e attenzione, perché chiede quello? Dio gli dà anche i beni temporali che lui non aveva chiesto, la ricchezza, la gloria e dice, se tu osserverai le mie reggi, ti do anche lunga vita. Tenete presente che nella teologia dell'Antico Testamento la benedizione di Dio ce l'hai se c'hai un sacco di soldi, se c'hai lunga vita, se c'hai gloria. E poi chiaramente se c'hai le mogli e se c'hai anche tanti figli. Cioè, nell'Antico Testamento questi sono i segni della benedizione di Dio. Quindi sarebbe stato anche normale per un uomo dire, vabbè, dammi ricchezze. Perché dammi ricchezze significa che tu mi stai benedicendo. Eppure chiede quest'altro. Sembra quasi che Dio ne resti amminato, no? Ma questo, capite, è un prequel del Vangelo, no? Chiunque per me lascia padre, madre riceverà cento volte tanto di quello che ha lasciato e la vita eterna. Quando noi investiamo su Dio, detto in termini più prosaici, spesso e volentieri, oltre all'investimento su Dio, te viene ogni bene. Salomone, a cui è attribuito tradizionalmente il libro della sapienza, anche se oggi tutti quanti gli eseggeti lo mettono in discussione, dirà che io ho cercato la sapienza fin da quando ero giovane nel libro della sapienza e insieme con lei l'ho trovata, mi sono venuti tutti i beni, tutti i beni. È esperienza di tantissimi. Prova a mettere Dio al primo posto tutto e per tutto e vedrai se ti mancherà mai qualcosa. bene, questo è il primo step. Andiamo a vedere il secondo e che è subito dimostrazione pratica che la sapienza è subito arrivata. L'episodio immediatamente successivo, quindi se va rota, si perdono il termine, dal versetto 16 al 28, ci siamo lasciati con il 15, andiamo dal versetto 16 al 28. Che succede? Un giorno vennero a dare due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse perdona mio signore, io e questa notte abitiamo nella stessa casa, io e questa donna abitiamo nella stessa casa, io ho partorito mentre lei era in casa. Tre giorni dopo il mio parto anche questa donna ha partorito, noi stiamo insieme e non c'è nessuno esterno in casa fuori di noi due. Il figlio di questa notte è morto durante la notte, il figlio di questa donna è morto durante la notte perché lei gli si era cuoricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte ha preso il mio figlio dal mio fianco mentre la tua schiava dormiva e se l'ha messo in senso il mio sieno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare il mio figlio ma ecco era morto, l'ho osservato bene al mattino ma non era il figlio che avevo partorito io. l'altra donna disse non è così mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto e quella contraria diceva non è così quello morto è il tuo figlio e il mio è quello vivo e discutivano così alla presenza del re. Il re disse Costai dice mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto mentre quella dice non è così tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo. Allora il re ordinò andate a prendermi una spada e portarono una spada davanti al re. Quindi il re aggiunse tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra. La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio e disse perdona mio signore date a lei il bimbo vivo non dovete farlo morire. L'altra disse no non sia nemmeno il tuo tagliate presa la parola il re disse date alla prima il bimbo vivo non dovete farlo morire quella è sua madre. Tutti gli israeliti si erano dalla sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia. Questa è una prima applicazione della sapienza. Un episodio molto edificante bellissimo no? queste due si ligano il figlio una mente e l'altra dice la verità come faccia a capire chi dice la verità tagliamo in due il figlio è chiaro che la madre vera piuttosto che vedere morire il figlio preferisce che che vada dato a chi e non la madre quindi a quella che mentendo dice la figlia sua. Quindi è subito un'applicazione pratica molto edificante della sapienza immediatamente ricevuta da Salomone. Passiamo facendo un saltino direttamente verso il capitolo quinto dove comincia a svilupparsi la fama di Salomone. Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza molto grandi e una mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. La sapienza di Salomone sapienza in ebraico è hacham superava la sapienza di tutti gli orientali e tutta la sapienza dell'Egitto. Egli era più saggio di tutti gli uomini più di Eman L'Ezraita di Eman di Calcolle di Arda figli di Macon il suo nome era famoso fra tutte le genti di Mitrofe. Salomone pronunciò tremila proverbi le sue odi furono mille e cinque parlò delle piante dal cedro del Libano all'issopo che sbuca dal muro parlò delle bestie degli uccelli dei rettidi e dei pesci da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di Salomone mandati da tutti i re della terra che è un ventito parlare della sua sapienza sapete che penso che lo sapete tradizionalmente quasi tutti i libri sapienziali tranne il Siracide erano attribuiti a Salomone per esempio proprio il libro che raccoglie i proverbi di Salomone che si chiama appunto il libro dei proverbi una saggezza e una sapienza veramente straordinarie ora andiamo a vedere subito dopo il progetto del tempo primo re 5 versetti 15 20 Kiram re di Iro mandò sui serviti da Salomone perché ha sentito che l'avevano un re al posto di suo padre infatti Kiram era sempre stato amico di Davide Salomone mandò dire a Kiram tu sai che Davide mio padre non ha potuto edificare un tempio al nome del Signore suo Dio a causa delle guerre che i nemici gli mossero da tutte le parti finché il Signore non li prostrò sotto la piante dei suoi piedi ora il Signore mio Dio ha dato pace da ogni parte e non ho né avversari né particolari difficoltà ecco ho deciso di edificare un tempio al nome del Signore mio Dio come ha detto il Signore a Davide mio padre tuo figlio che avrò posto tuo sul trono lui edificherà il tempio al nome ordina dunque che si tagliano per me cedi del Libano i miei servi saranno con i tuoi servi io ti darò come saranno con i tuoi servi quanto mi sarai tu sei bene infatti che fra noi nessuno è capace di tagliare legname come saranno fare quelli di Sidone quindi il progetto di questo grande tempio e attenzione a un piccolo particolare la pace perché durante il tempo di Salomone il nome stesso Salomone capiamo subito che Salomone ha il proprio nella nella radice verbale appunto il termine il termine pace no perché Salomone in ebraico è Shalom che è proprio Shalom come tutti quanti sappiamo vuol dire pace quindi Salomone vuol dire pieno di pace e attenzione durante Salomone ci fu un tempo di stop dalla guerra fa pensare qualcosa fa ricordare qualcosa guardate che nostro signore è sempre un grande voi sapete che il tempio costruito da Salomone era figura di chi andiamo al Vangelo di San Giovanni vi ricordate quando Gesù disse distruggete questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere ma egli parlava del tempio del suo corpo quindi il tempio di pietra la figura del tempio corpo umano che sarebbe stata la tenda terrena del verbo incarnato ma attenzione quando è che si è fatto carne il verbo quando un altro re anzi un imperatore stavolta pagano augusto incredibilmente ci furono la famosa pax augustia l'abbiamo studiato a scuola il tempio di Giano rimase chiuso quindi l'ascia di guerra sotterrata per tantissimi anni e quando è che innacco Gesù guarda caso durante il tempo della pax augustia Dio concede la pace a Salomone sia perché insomma se fosse stato andare in guerra non c'era una possibilità anche materiale di applicarsi alla progettazione e alla esecuzione della costruzione del tempio ma c'è evidentemente anche questa carica tipologica il tempio figura del tempio vero il corpo di nostro Signore Gesù Cristo fu costruito nello stesso tempo di pace in cui il verbo si sarebbe poi fatto carne il principe della pace e anche Salomone che anche Salomone figura di nostro Signore Gesù Cristo che significa il pacifico il pieno di pace ecco questo perché comprendiamo anche un po' di profondità di ricchezze della della Sagra Scrittura ora facciamo un altro jump quindi saltiamo tutta la parte pratica operativa che che è un'altra la costruzione del tempio quindi tutti i egni di cedro i materiali di cui era fatto tutte queste cose qui possiamo chiaramente scorrere e andare al momento in cui finalmente sto tempio è pronto e che succede Dio prende possesso del tempio appena i sacerdoti fuono usciti dal santuario quindi la nube riempì il tempio del Signore ecco che ritorna la nube la nube del la conosciamo la nube dell'esodo la nube il luogo il come dire l'elemento materiale che simboleggia la presenza del Signore la nube riempì il tempio del Signore i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore allora Salomone disse davvero il Signore ha deciso di abitare nella nube scura ho voluto costruirti una casa eccelsa un luogo per la tua dimoria in eterno ora qui abbiamo saltato chiaramente perché è un po' eh magari anche noioso tutti quanti i lunghi capitoli ma il tempio di Salomone era qualche cosa di meraviglioso ecco e considerando che il tempio di Salomone era figura del corpo umano di nostro Signore a partire da questo piccolo particolare facciamo qualche piccola considerazione neanche troppo piccola sui templi che esistono tuttora i tempi non sono mai cessati di esistere per il popolo di Israele il tempio fu uno che era il tempio di Gerusalemme è chiaramente che per noi il tempio non è uno ce ne sono infiniti di tempi ma come devono essere i tempi del Signore quanto di più bello sia concepibile e immaginabile io continuo a ripetere uno dei segni della grande decadenza di fede che abbiamo nel nostro tempo sono i templi allora io vi dico sono andato in giro all'Urd a Fatima al Divino Amore a San Giovanni Rotondo ma voi avete visto che cosa sono stati capaci di costruire cioè all'Urd io andai da seminarista fecero quella cosa orribile cioè sottoterra una chiesa chiesa enorme ma pensate un po' sottoterra tutto cemento armato e quella cosa sottoterra una barca rovesciata io rimasi sorridito dico ma ci arrivo solo io una barca rovesciata sottoterra capite la barca è simbolo della chiesa rovesciata nel seminterra cioè il sogno del diavolo capite cioè rovesciare la chiesa e sotterrarla ce l'hanno costruita ma l'avete visto quella cosa mostruosa che c'è a San Giovanni Rotondo dove sta sevolto padre Pio è stato pure un grande architetto a progettarla ma siete stati a Fatima a vedere il santuario nuovo orribile o il santuario nuovo che hanno fatto al divino amore dalle parti mie orribile o i cubi che girano adesso ma sempre da padre Pio a Piana dell'Orme dove c'è la quercia dove c'è dove sta la la religione dell'Orme ho andato a vedere quel mostro che gli hanno costruito davanti senza neanche gli inginocchiatori questi sono proprio i segni dei tempi i segni dei tempi io non posso vedere le chiese fatte in cemento armato visibile cioè se oggi uno vuole proprio mettere il cemento armato perché oggi ci sta il cemento armato ma pittalo nascondilo in qualche modo non si può vedere il cemento armato visibile in una chiesa non si vede neanche a casa nostra che 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 le 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 pareti c'è un termato visibile grigio per per Dio si deve dare il meglio del meglio il meglio del meglio San Pietro le Bastiche Romane San Paolo fuori le mura Santa Maria Maggiore San Giovanni in Laterano a Dio si fa il meglio ricordiamo sempre è inutile che qualcuno storcia la bocca perché abbiamo queste testimonianze storiche se uno si va a leggere se uno si prende la pazienza di andarsi a leggere quei capitoli va a vedere come il meglio del meglio era stato scelto per il Tempio di Gerusalemme i migliori artisti non è uno sfoglio gratuito sono cose fatte in onore del Signore sono cose fatte a Lui a Dio dal meglio del meglio cioè tutta quanta la legislazione noi l'abbiamo saltata a suo tempo cioè per esempio tutte le regi del Levitico sui sacrifici tu a Dio gli devi portare l'animale più bello che c'hai il primo genito non gli puoi portare un animale cieco o zopo a un sacrificio perché Dio quello non lo guarda non è che a Dio gli interessa l'animale che ci vede o non ci vede ma è l'aspetto simbolico a Dio si è dal meglio del meglio il meglio è per Lui quindi questo aspetto è oltremodo istruttivo per tutti noi e questo vale anche per il Tempio che è il nostro corpo perché poi San Paolo nel Nuovo Testamento anche lui fa la traslazione tra il Tempio e il corpo giustamente perché il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e a Dio si dà il meglio facciamo sapere i suori ad esempio qual è il vestito clericale più gradito al Signore la danare e quindi a Dio si dà il meglio te metti non te basta perché Dio non gli dà gli scarti gli dà il meglio sempre come puoi e dove puoi e quanto puoi va bene penso che ci siamo capiti e quindi penso che questo per ora può bastare Dio prende possesso del Tempio cioè il fatto che lui scende in forma visibile vuol dire che è gradito avrà preso possesso il nostro Signore dei certi mosceri che girano Dio non ci sto nella testa sua certo se lì dentro ci mettono un tabernacolo e ci mettono l'ostia poverino il nostro Signore deve stassene là dentro perché lui ha accettato questa umiliazione nell'ostia santa ma diciamo in senso traslato Dio ha preso possesso di quel Tempio che si è compiaciuto di quella cosa ma io ho molti dubbi molti però mi sbaglierò opinioni mie personali queste qui per carità quindi e subito dopo andiamo a vedere il discorso e la preghiera di Salomone il Re si voltò e benedisse tutta l'Assemblea di Israele mentre tutta l'Assemblea di Israele stava in piedi vedete il Re che benedisce ancora chiaramente lì stiamo in una funzione eminentemente sacrale da parte del Re e disse benedetto il Signore Dio di Israele che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide mio padre da quando ho fatto uscire Israele mio popolo dall'Egitto io non ho scelto una città fra tutte le tribù di Israele per costruire una casa perché vi dimorasse il mio nome ma ho scelto Davide per governi il mio popolo Israele Davide mio padre aveva deciso di costruire una casa al nome del Signore Dio di Israele ma il Signore disse a Davide mio padre poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome hai fatto bene a deciderlo solo che non costruirai tu una casa ma tuo figlio che uscirà dai tuoi fianchi lui costruirà una casa al mio nome e il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato sono sostituto infatti a Davide mio padre e siedo sul trono di Israele come aveva pronunciato il Signore e ho costruito la casa al nome del Signore Dio di Israele gli ho fissato un posto per l'arca dove c'era l'alleanza che il Signore aveva concluso con i nostri padri quando li fece uscire dalla terra d'Egitto poi Salomone si fosse davanti all'altare del Signore e sentite qui di fronte a tutta la Siammedia di Israele estese le mani verso il cielo e disse Signore Dio di Israele non c'è un Dio come te né lassù nei cieli né qua giù sulla terra tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi seri che camminano davanti a te con tutto il loro cuore tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli avevi promesso quanto avevi detto con la bocca l'hai rimpiuto con la tua mano come lo pare oggi ora Signore Dio Israele mantieni nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli hai promesso dicendo non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e stia sul trono di Israele purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta camminando davanti a me come hai camminato tu davanti a me ora Signore Dio di Israele si adempia la tua parola che hai rivolto al tuo servo Davide mio padre e adesso attenzione ma è proprio vero che Dio abita sulla terra ecco i cieli non possono contenerti tanto meno questa casa che io ti ho costruito volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica Signore mio Dio per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi è nato davanti a te siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa verso il luogo di cui ho detto lì porrò il mio nome ascolta la preghiera che il tuo servo in questo luogo ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo di Israele quando pregheranno in questo luogo ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo ascolta e perdona stop piccola parentesi allora il luogo sacro è la casa di Dio figlioli miei cari non è la stessa cosa non è la stessa cosa pregare Dio nel luogo sacro o pregare Dio fuori del luogo sacro per cui un'altra delle vergogne ma proprio delle vergogne ma proprio delle cose inqualificabili ma delle cose che gridano vendetta al costretto di Dio proprio inqualificabili come sono ridotti certi templi certe case di Dio c'è gente che mi racconta che in chiesa non riesce a pregare specialmente dopo le funzioni che c'è il mercato si parla di tutto si chiacchiera a voce alta i telefoni che squillano la totale insieme all'orrore dei templi c'è proprio la quasi totale perdita del senso del luogo sacro padre Pio diceva che in chiesa si parla con Dio e di Dio e basta le chiese non sono salotti e non sono musei quelle d'arte è un luogo dove chiunque entra in qualunque momento in qualunque situazione c'ha il sacrosanto diritto di potersi in istanza in santa pace e in silenzio assoluto a pregare e se qualche sacerdote ascolterà queste cose non le ascolta per favore ci pensi perché è il compito del custode della chiesa di far curare queste cose e se c'è oltre a combattere le guerre puniche e io che l'ho sempre combattuto e va sicuro che ce ne stanno e ci sta da litigare con la gente e da farsi mandare a quel paese in chiesa tra l'altro perché non si fanno nessuno scrupolo di prenderti e mandarti a quel paese in forma prosaica in chiesa o di minacciarti in chiesa perché questo è ma questa è una battaglia da combattere le chiese devono essere la casa di Dio deve essere casa di preghiera come ha detto il nostro Signore nel Vangelo non una peronca di ladri non un salotto e non un mercato e non un museo perché la preghiera aprite il libro delle indulgenze voi sapete che se io dico un rosario per conto mio c'è l'indulgenza parziale se io il rosario lo dico in chiesa c'è l'indulgenza plenaria anche se lo dico da solo perché il pregare in chiesa dalla chiesa stessa tra virgolette è premiato con l'indulgenza plenaria per farti capire che non è la stessa cosa in chiesa c'è il Santissimo Magramento voi sapete che mezz'ora di adorazione davanti al tabernacolo c'è l'indulgenza plenaria se tu ti stai se capace non un'ora è mezz'ora continuata e certamente un povero pedere laico che ce può fare però niente non ha autorità però si può chiedere si può sollecitare si può stimolare si può farlo notare si può dire padre io vorrei stare qui un pochino a pregare ma è possibile che io finita la messa non posso stare cinque minuti perché c'è il finimondo ma vuole fare qualcosa non pensa che sia un mio diritto che ho fatto la comunione di starmi in santa pace dieci minuti senza che ci sia il finimondo che mi scoppia intorno lo capisce che è compito suo questo qui quando un tempo c'erano gli ordini minori aboliti una di quelle cose proprio che io non ho parole per esprimere proprio il disappunto di una cosa di questo genere voi sapete che il primo ordine minore cosiddetto era lo stiario una figura completamente sparita sapete che è lo stiario lo stiario era l'incaricato di custodire il decoro del tempio e dell'accoglienza storica anticamente quindi se un prete la prima cosa uno che diventa la prete la prima cosa che diventa è ostiario allora ti stai già dicendo guarda che uno di tuoi che tutto quello era compreso negli ordini minori capite che il minore è compreso nel maggiore quindi se la prima cosa tu ricorda che il primo compito questo è rimasto un po' perché non lo sapesse se non avete mai visto l'ingresso di un parroco al parroco il vescovo quando entra gli dà le chiavi della chiesa simbolicamente le chiavi del tabernacolo cioè per dire tu sei custode della chiesa non soltanto perché devi tenerla bene ma devi anche fare in modo che la chiesa sia chiesa e sei custode del tabernacolo perché la tua responsabilità è affidata alla custodia dell'ocrestia allora proseguiamo la lettura perché non è finita ancora se uno pecca contro il suo prossimo e perché gli è posto un giuramento in precatorio viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio tu ascoltalo nel cielo intervieni e fai giustizia con i tuoi serbi condanna il malvagio facendo di cadere sul capo la sua condotta e dichiara giusto l'innocente rendendogli quanto merita la sua giustizia quando il tuo popolo di Israele sarà sconfitto di fronte al nemico perché ha peccato contro di te ma si converte a te loda il tuo nome ti prega e ti supplica in questo tempio tu ascolta nel cielo perdona il peccato del tuo popolo di Israele e fallo tornare sul suolo che hai dato a loro padri ma pensiamo Gesù quante volte ha frequentato il tempio quante volte ha insegnato nel tempio quando si chiuderà il cielo non ci sarà pioggia perché hanno peccato contro di te ma ti pregano in questo luogo e lodano il tuo nome si convertono dal loro peccato perché tu li hai umiliati tu ascolta nel cielo perdona il peccato dei tuoi servizi del tuo popolo ai quali indicherai la strada buona sul camminare e concedi la bioggia la terra che hai dato in eredità al tuo popolo quando sulla terra ci sarà fame peste carbonche o ruggine invasione di locusti o di burri quando nessun amico lo assederà nel territorio delle sue città o quando vi sarà una piaga o infermità di ogni genere ogni preghiera ogni suppi di chiunque abbia patito una piaga nel cuore e stendere le mani verso questo tempo tu ascoltala nel cielo luogo della dimora perdona agisce e dà ciascuno secondo lo sa condotto perché conosci il tuo cuore perché solo tu conosci il cuore di tutti gli uomini perché ti temono tutti i giorni della loro vita sul suolo che hai dato ai nostri padri avete sentito che cosa ha detto qui cioè quando arrivano le grosse calamità e i grossi guai si vada a pregare nel tempio e che il Signore ascolti nel tempio adesso io dovrei dire dovrei fare alcune considerazioni evidentemente arriviamo da soli o le devo fare cioè in tempi di grandi calamità che facciamo chiudiamo le chiese così non si prega più dentro o magari le spalanchiamo perché si possa pregare il doppio tanto per dirne una penso che sia sufficiente insomma per capire certe cose tra le tante cose incompensibili sta scritto qui Salomone se non piove perché non piove attenzione perché non piove altre cose oggi politicamente scorrettissimi che guai a chi si sarda a dirle giusto perché non piove perché non piove andiamo a ripetere perché hanno peccato contro di te ma guarda un po' perché hanno peccato contro di te e allora che cosa devono fare siccome non piove perché hanno peccato contro di te tutti nel tempio a pregare e a convertirsi dal loro peccato perché tu li ha umiliati ma guarda qua ah ma quindi Dio umilia il suo popolo no 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 per carità Dio è buono misericordioso che cosa sono queste cose qui sì però peccato che nella Bibbia c'è scritta un'altra cosa o no facciamo la traduzione dal ebraico se qualcuno non è convinto bisogna farla con la grammatica alla mano questa è l'ultima traduzione quella l'ultima riveduta e corretta da Fiordi e Segeti del 2008 dice quando ci sarà la peste la peste la peste oh la peste ammazza tutti quanti la peste se bruciano i cadavri per strada che facciamo chiudiamo il tempio quando ci sta la peste va beh quindi tu ascoltala nel cielo luogo della tua dimora perdona agisce da ciascuno secondo la sua condotta tu che conosci il suo cuore solo tu conosci il cuore di tutti gli uomini altra grande chicca della perla della sapienza di Sanomone perché ti temano tutti i giorni della loro vita sul suolo che dà dei nostri padri tu solo conosci il cuore di tutti gli uomini dimentichiamolo mai questo ed è per questo che non possiamo non dobbiamo giudicare nessuno oh andiamo a vedere poi la regina di sabba facciamo un altro piccolo jump famoso episodio così quando sentiremo dire nel Vangelo la regina di sabba è partita per ammirare la sapienza di Salomone vi ricordate Gesù ed ecco ben più di Salomone c'è qui che è successo questa regina di sabba andiamo a vedere la regina di sabba sentita la fama di Salomone dovuta al nome del Signore venne per metterla alla prova con enigmi arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso la leggendaria regina di sabba con capelli carichi di aromi d'oro in grande quantità pietre preziose si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore Salomone le chiarì tutto quanto lui e ne diceva non ci fu parola tanto nascosta al re che egli non potesse spiegarle la regina di sabba quando vide tutta la sapienza di Salomone la legge che gli aveva costruito i cibi della sua tavola il modo ordinato di sedere dei suoi servi guarda un po' il modo ordinato di sedere dei suoi servi il servizio dei suoi domestici e le loro vesti guarda un po' le loro vesti i suoi coppieri e gli ocausti che egli offriva nel tempo del Signore rimase senza respiro abbiamo ascoltato amici cari il modo ordinato di sedere dei suoi servi il galateo le loro vesti io c'ho il pallino figlioli miei cari nel vestire perché un altro segno di decadenza certa del nostro tempo è lo schifo che si vede in giro nelle mode e nel vestire che fa proprio venire il botto a stomaco pessimo gusto orribile tutti quei trucchi tutte quante quelle cose brutte quanto la fame volgari io se vedo una donna con gli smalti rossi con i rossetti rossi mi viene il volto a stomma mi viene pure prima adesso non me ne importa niente ma è brutta ma non posso dire che sono tutti quanti c'è chi le stagioni ci stanno le manie delle abbronzature niente di più volgare ma lo sapete figlioli miei carico una volta cioè l'abbronzatura era considerata roba come dire da popolani da perdonatemi il termine da plebei cioè le persone nobili e i signori non ci andavano non esiste che mi vada a far che mi vada a abbronzare sapete che un signore si vede per come sta a tavola anche questo è a cominciare dalle dalle famiglie non so a casa di chi io a casa mia non mi potevo mi cazzare quando mi mi pareva da da tavola cioè non vi dico io insomma anche nell'esperienza pastorale pranzi e cene fatti con questi ragazzini animali a tavola poverini non è colpa loro ma ingestibili segni dei tempi quindi le cose notate dalla regina senza respiro non soltanto per i coppieri del peggio del peggio lo calcio di offrire nel signore e quindi lei disse al re era vero quanto avevo sentito dire il mio paese sul tuo conto sulla tua sapienza io non credevo a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto gli occhi quello che vedono gli occhi importantissimo amici cari ebbene non me ne era stata riferita neppure una quanta la sapienza e la prosperità tu superi la fama che ho udita beati i tuoi uomini e beati questi i tuoi nervi che stanno sempre nella tua presenza e ascoltano la tua sapienza e sia benedetto il signore il tuo Dio che si è compiaciuto di te così da collocarti sul trono di Israele perché il signore ama Israele in eterno e ti ha stabilito il re per esercitare il diritto e la giustizia e la diede al re ragazzi centoventi a lenti d'oro d'oro aromi in gran quantità e pietre preziose non arrivarono più tanti aromi quanti ne aveva dati la regina di fare salomone ecco e adesso purtroppo gli dedichiamo poco tempo perché cominciano poi arrivano ai miei le doventi notte perché anche i più grandi figlioli megari se non stanno attenti possono fare una brutta fine nel capitolo undici che gli viene in testa di fa salomone lui che era così sapiente il re salomone ha molte donne straniere oltre la figlia del faraone moabite ammonite edomite sidonie e ittite provenienti dai pochi di cui aveva detto il signore non andate da loro ed essi non vengano da voi perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro e qui salomone è caduto si rivolgono loro per amore sentite aveva 700 principesse per mogli e 300 concubine come faceva non lo so e le sue donne gli fecero deviare il cuore sentite quando salomone fu vecchio le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dei e il suo cuore non restò integro con il signore suo dio come il cuore di Davide suo padre quello che ha scritto il libro dei proverbi quello che ha scritto il libro della sapienza capito un autore queste sono le cose che a me mi spaccano il cuore e quando vedo queste cose mi viene un timore un tremore non indifferente perché se cadono questi gianti possiamo cadere tutti quanti la rima non è voluta è uscita salomone seguì astarte astarte dea di cuore di Sidone milcom proprio degli immaniti questo milcom è il nome di un demone salomone commise il mare agli occhi del signore non seguì pienamente il signore come Davide suo padre salomone scopì un'altura per camos o brobio dei immaniti attenzione sul monte che di fronte lo sapevate e anche per Moloch Moloch quello che sta esposto a Roma al Colosseo o proprio degli immaniti quello che si facevano i sacrifici umani allo stesso modo fece per tutte le ciudate straniere che offrivano in cesto sacrificio ai loro dei perciò il signore si sdegnò con salomone perché aveva deviato il suo cuore dal signore di Israele che gli era apparso due volte e gli aveva comandato di non seguire altri dei ma salomone non osservò quanto gli aveva comandato il signore allora disse a salomone audite audite poiché ti sei comportato così e non hai osservato la mia alleanza nella legge che ti ha ti strapperò il regno e lo consegnerò a un tuo servo tuttavia non lo farò durante la tua vita per amore di davide tuo padre lo strapperò dalla mano di tuo figlio ma non gli strapperò tutto il regno una tribù la darò a tuo figlio per amore di davide il mio servo e per amore di gerusalemme che ho stelto il signore il signore suscitò contro salomone un avversario l'edomita adab che era della stir per regare di edom dopo la dispatta infitta era davide edom quando ioab capo dell'esercito era andato a scoprire i cadaveri e aveva ucciso tutti i maschi edom ioab con tutti i seri adab adad con alcuni idomiti a servizio del padre fuggì per andare in Egitto va bene adad era un ragazzo partono fanno avanti trova grazie agli occhi del faraone e chi gli dire di moglie la sorella della propria moglie la sorella di tacpenes la regina madre questa sorella di tacpenes svezzò nel palazzo del faraone andiamo un pochino avanti Dio suscitò contro salomone un altro avversario dopo questo primo Razon figlio di Lada l'ha fuggito dalla tazera di Soba ma soprattutto fu il pensiero di Israele per tutta la vita di Salomone e questo oltre al male fatto Lada eccetera eccetera ma anche Geroboamo attenzione figlio dell'Ebramita Nebat mentre era al servizio di Salomone alzò la mano contro il re e questa è la ragione per cui alzò la mano contro il re Salomone costruì il mio eccetera eccetera comunque qui quindi disse Geroboamo ecco strapperò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te dieci tribù a Geroboamo successore di Salomone a lui rimarrà una tribù a caso di Davide mio serbo e a caso di Gerusalemme la città che ho scelto con tutte le tribù ciò avverrà perché mi hanno abbandonato e ci sono prostati davanti ad Astarte a Milcom non hanno camminato sulle mie vie compiendo ciò che erette i miei occhi osservando le mie leggi e le mie arme come Davide mio padre vedete qui c'è tutto quanto adesso fermo la lettura perché stiamo per finire un pochino il tempo e andiamo a vedere direttamente la morte di 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 Salomone vedete castigo zero sopravviverà il regno di Giuda perché adesso attraverso la 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 dopo Salomone il regno si divide in due subito il regno di Giuda è il regno di Israele il regno del nord è il regno del sud nel regno del sud resteranno i membri della tribù di Giuda cioè i discendenti legittimi di Davide perché per amore di Davide Dio mantiene il suo regno e sappiamo bene che Gesù è della tribù di Giuda è discendente di Davide quindi Salomone si gioca tutto ma per riguardo a Davide il regno sopravvive le altre gesta di Salomone tutte le lezioni della sua sapienza non sono forse scritte nel libro delle lezioni di Salomone il tempo in cui Salomone aveva regnato a Giosalema e su tutti Israele fu di 40 anni Salomone si addormentò con i suoi ombagli e fu sepolto nella città di Davide a suo padre al supporto di tenere suo figlio Roboamo vedete subito dopo non lo vedremo oggi scisma politico e religioso perché Roboamo e Geroboamo si faranno la guerra e divideranno il regno ecco questa è la storia da un lato meravigliosa ma che purtroppo va a finire male di Salomone non è l'unico ripeto per esempio c'è un grande padre della chiesa che non è santo che è Tulliano un genio uno fuori del comune che ha finito la sua vita montanista è morto eretico ripeto sono esempi che grazie a Dio non troppo frequenti ma che si devono far riflettere e attenzione adesso con tutto rispetto alle donne quando le donne diventano tra virgolette femmine e attenzione soprattutto a chi ha l'ascendente il carisma e la capacità di portarci lontani da nostro Signore perché lontani da nostro Signore non ci dobbiamo andare ma è per nessun motivo bene abbiamo fatto quello che abbiamo potuto ci aggiungiamo alla prossima puntata e Dio vi benedica e una donna sempre vi prega grazie